Aica è solo un altro carrozzone dalle dimensioni mastodontiche, ma con un capitale sociale ridicolo le conseguenze di tutto questo le pagheranno i cittadini. E questa è l'opinione di Ignazio Bivonna, consigliere comunale della lista Messina, espressa ieri sera in aula in occasione dell'approvazione, poi passata ma solo per la decisione dell'opposizione di astenersi, del conferimento del milione di euro del prestito della regione dal comune di Sciacca. Oggi abbiamo una situazione di gestione mastodontica con una società che ha un capitale sociale irrisorio e che ha la necessità di rivolgersi sempre ai soci per cercare di poter andare avanti. Non so se Aica oggi ha un piano industriale, non so le somme che vengono ricevute e come vogliono essere reinvestite. Per Bivonna se si fosse trattato di una società privata sarebbe già stata liquidazione fallimentare. E qual è il paracadute di tutta questa situazione? È il cittadino purtroppo, perché tutti questi aumenti che noi vedremo dal costo dell'energia elettrica alle altre somme di denaro che richiede ad esempio Girgenti Acque per quanto riguarda la percentuale degli investimenti fatti, sono tutte somme che porteranno Aica ad avere un bilancio fortemente in perdita e l'unico sistema che il legislatore ha messo in atto per salvaguardare questa gestione è quello dell'aumento delle tariffe. E non sarebbe stato così anche se ci fosse stato un privato ad amministrare l'acqua? Ma io non so se sarebbe stato così, ho una certezza, ce l'ho, che Aica è una società non bancabile, cioè non sono nelle condizioni di andare in banca loro per poter avere un prestito. Di fronte a questa situazione il consigliere comunale Bivonna fa notare che è sbagliato equiparare un modello di gestione privata virtuosa con l'esperienza di Girgenti Acque, perché quella dice è stata mandata a casa dalla magistratura. Ma non perché il sistema privatistico è un sistema che in quanto tale è un sistema negativo, perché quella gestione di Girgenti Acque era una gestione che tecnicamente non funzionava. Se noi dobbiamo essere sinceri con il cittadino, noi dobbiamo dire oggi al cittadino che non è vero che la gestione dell'acqua è una gestione completamente pubblica. Se Sicilia Acque fosse un soggetto pubblico, oggi ragioneremmo noi in maniera completamente diversa. Invece abbiamo Aica che compra l'acqua a prezzi esorbitanti, la vende a prezzi esorbitanti, portando perdite per se stessa e perdite per i propri cittadini. Perché se poi Aica ha la necessità di rivolgersi a un privato per comprare l'acqua, vuol dire che il sistema non funziona, perché gli utili li fanno altri e noi facciamo solamente perdite. Questo mi porta a dire che il voto mio in aula ieri sera in condizioni diverse sarebbe stato completamente diverso. Posso chiederglielo perché allora ha agevolato, per capire che il punto passasse? Perché ad oggi non c'è un piano B. Non abbiamo avuto un'amministrazione che ci ha messo nelle condizioni di poter fare una scelta. Noi abbiamo un'amministrazione che secondo me è perfettamente appiattita alle decisioni che si sono assunte all'interno dell'Aica e di questi giorni l'intervento del Presidente di Aica che è intervistato e dà la road map di quello che dovrebbe essere il futuro di Aica. Non funziona così. Aica è una società con partecipazione pubblica e i soci sono i sindaci e i comuni. Non è pensabile che il Presidente possa dare un indirizzo di questo tipo non condividendolo preventivamente. Quindi ho proprio la sensazione che è un sistema che ha difficoltà a funzionare ma noi lo vediamo poi nei risultati concreti sul territorio perché è vero che negli ultimi giorni abbiamo visto qualche intervento che sembrerebbe eclatante per la città di Sciacca ma non hanno fatto altro che mettere un pozzetto accanto a un altro pozzetto esistente. Ma noi vediamo che quell'obiettivo che voleva essere proprio della gestione pubblica non è stato raggiunto. Anzi devo dire una cosa, noi abbiamo una grande fortuna che è l'ingegnere Fiorino, il direttore generale che si sta sacrificando e devo dire che è una bella risorsa che in questo momento questo territorio ha, ma se non ci fosse una risorsa di questo tipo io ritengo che la situazione sarebbe ancora peggiore di quella che è attualmente. Infine questo è il commento dell'esponente dell'opposizione in ordine al fatto che l'amministrazione non abbia i numeri in aula. Stiamo cercando di dare un segnale alla città di collaborazione rispetto a determinate tematiche che riteniamo importanti. È frutto di un'anomalia che anche se io vivo con i numeri in aula positivi per la mia parte politica, devo dire che dal punto di vista tecnico funziona poco questo sistema. È una legge che va radicalmente modificata perché non è possibile che si possano avere configurazioni numeriche di questo tipo in aula che devo dire mettono più in imbarazzo noi che è il sindaco.